La Roma è tornata, adesso la Roma Spalletti, che ha scelto alcuni giocatori, come Perotti, preso dallo Geno, ed aiutare l'attacco Salae del Sarawi. La Roma fa a gol, non perde più una partita, superati in viola, la Champions è fatta, si lotta per il campionato vicino alla Juve. Siamo in difesa, un portiere Scesni da Seviglia presa, i rosso-gialli non subiscono un gol, come un murro d'acciaio noi siamo. Il Cervigno se n'è andato in Cina, e se n'è andato, rezza allenatore, la Roma è tornata, e siamo secondi!